10-2 ho 10-2, 9-2 sinceramente l'ho detto così tutta gira, guardalo, bravo all'altra, ottima volta a uomo, a uomo, a uomo un spazio, un spazio un spazio, un spazio, un spazio un spazio, un spazio un spazio, un spazio un spazio, un spazio io non l'ho caputo e c'è il to Vedi, lo vedi? Buongiorno! Francia, Francia ti puoi mettere in difesa Francia, 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 Francia Francia, 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 Francia Francia, Francia, Francia Francia, 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 Francia Francia, 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 Fran 12-3 12-3 12-3 13-3 15-6 15-6 15-6 15-6 15-6 15-6 15-6 15-6 15-6 17-4 19-9 20-9 No, 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 no. 13-3. 13-3. 14-3. 14-3. 15-3. 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 15-4. 15-4. 16-4. 16-5. A fare che cosa? A fare la partita Ancora 16 minuti Ti piaceva? Ti piaceva Matto? 15-3 Buono, buono Ci è una articola I altre titoli Spice 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 Vincenzo! 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 Oh, devi tirare il piano angolato, non c'è tutto più questo! Allora, qui non è, no? Allora, qui non è, no? Allora, qui non c'è male, no? Allora, qui non c'è male, no? Vi parevano che tutti prendendo mano! Dietro! Dietro! Eh! No, va! Va! Vincenzo! Come siamo noi? Oh, oggi! Oh, che è il resto! Vincenzo! Domenico! Sì! Che tipo di morte! Domenico! Di Mazzini! Ah, il mio compagno è che ci sono anche una parte di me. Vincenzo! Vincenzo! Oh, facciamo le parte! Vincenzo! 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 Però... Vincenzo! Non c'è una... questo a marcare il 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 Non è vero! Non è vero! Che fai? Che fai? Non aiutare! Non affanculo! Ah, non ha capito che cosa si fa! Non so se fosse una cosa! 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 Hai la chiamata fuoco! C'è la chiamata! Non so se fosse una chiamata! Non so se fosse una chiamata! Non so se fosse una chiamata! Perché stai andando? Voi! 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 Grazie